Pronto l'ampliamento del Tribunale di Foggia, la situazione si sblocca dopo 99 anni. L'allarme di C agricoltori Puglia per il nuovo ribasso del prezzo del grano duro. I produttori chiuderanno e la pasta non sarà più italiana, avvertono. Il sostegno alla gravidanza e alla maternità per le donne indigenti, dal Forum Famiglie Puglia, l'appello alla Regione. Ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud, pagina dedicata alle province di Bari, Labat e Foggia. Partiamo dal Foggiano, avete sentito nei titoli, c'è un'importante notizia legata all'ampliamento del Tribunale. Una situazione che si sblocca dopo 99 lunghi anni e restituisce dignità a quel territorio dal punto di vista della giustizia. Allora soffermiamoci su questa porzione di territorio perché però si torna a sparare. Si torna a sparare a Cerignola, è rimasto gravemente ferito un pregiudicato ed è stato fermato il presunto responsabile. Sentiamo. Un 42enne pregiudicato è rimasto ferito alla spalla sinistra e al volto da due colpi di arma da fuoco nel corso di una sparatoria avvenuta intorno alle 21.30 del 2 maggio in via Napoli a Cerignola nel Foggiano. A seguito di serrate e immediate attività investigative, i militari della compagnia Carabinieri di Cerignola hanno arrestato un 47enne del posto ritenuto il presunto autore del tentato omicidio. Sono ancora in corso le indagini finalizzate a capire il movente e a ricostruire bene gli eventi da cui è scaturita l'azione delittuosa. La vittima, a seguito del ferimento, è stata soccorsa in via Rialto nei pressi di un autolavaggio e trasportata con l'elisoccorso presso l'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La prognosi resta riservata, ma all'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita. Si tratta del secondo agguato subito in pochi mesi dal 42enne. Il primo era avvenuto lo scorso 19 luglio. Continuiamo con la cronaca. Andiamo però nell'abatto, in particolare a Trani, per i controlli e le sanzioni della Guardia di Finanza. Violazioni della normativa antiriciclaggio in due attività commerciali di Trani. La compagnia locale della Guardia di Finanza, su disposizione del comando provinciale di Barletta, ha effettuato una serie di controlli all'interno degli esercizi cittadini, riscontrando diverse irregolarità in un compro-oro e in un money transfer del co-capoluogo dell'abatto. I titolari delle due attività sono stati sanzionati per violazioni di carattere formale e sostanziale, poiché non risultavano rispettati gli stringenti parametri relativi alla compra-vendita di oro e allo scambio di denaro. Le fiamme gialle tranesi hanno identificato anche la clientela riconducibile alle violazioni della normativa antiriciclaggio e hanno segnalato le irregolarità alle autorità competenti, oggetto di controllo anche numerosi centri scommessi e distributori di gioco con l'obiettivo di individuare capitali di origine illecita. Le operazioni della Guardia di Finanza proseguono sull'intero territorio della sesta provincia pugliese. A Bari sono 12 rinvii a giudizio nell'ambito dell'inchiesta su presunte torture all'interno del carcere. I fatti risalgono ad aprile di un anno fa. In 12, tra agenti di polizia penitenziaria e infermieri in servizio nel carcere di Bari, sono stati rinviati a giudizio per le presunte torture avvenute il 27 aprile del 2022 a danno di un detenuto con patologie psichiatriche. L'ha deciso il GUP nell'udienza che si svolta nell'aula bunker di Bitonto. Il dibattimento per i 12 imputati inizierà il 21 giugno dinanzi al Tribunale di Bari. Il giudice ha ammesso al processo corrito e abbreviato tre imputati che ne avevano fatto richiesta. Il sovrintendente della polizia penitenziaria, Domenico Coppi, l'agente Roberto Macchia e il medico Gianluca Palumbo. Secondo l'accusa, sei agenti della polizia penitenziaria avrebbero torturato un detenuto di 41 anni dopo che questo aveva dato fuoco a un materasso nella sua cella. Le violenze sarebbero iniziate lungo il percorso dalla cella all'infermeria con il personale che, si legge negli atti giudiziari, sarebbe intervenuto con violenze gravi e agendo con crudeltà, prima scaraventando il 41enne sul pavimento, poi colpendolo con calci e schiaffi sulla schiena, sul torace, sui fianchi e sul volto sottoponendolo per circa 4 minuti a un trattamento inumano e degradante. Uno degli agenti, per tenere fermo il detenuto, lo avrebbe bloccato mettendosi di peso sui suoi piedi. In totale sono 11 gli agenti coinvolti, 3 sono finiti ai domiciliari e 6 sono stati sospesi fino a 12 mesi, nel novembre del 2022. Ai poliziotti non accusati di tortura, la procura contesta di non aver fermato e di non aver denunciato le violenze. Anche gli infermieri saranno processati per omessa denuncia, mentre il medico, che ha scelto l'abbreviato, è accusato anche di falso in atto pubblico per non aver refertato le ferite riportate dal detenuto. La difficile amministrazione della giustizia nel Foggiano, lo dicevo in apertura, trova però delle importanti risposte. Adesso c'è l'ampliamento del Tribunale di Foggia, una situazione che si sblocca dopo 99 anni. L'ampliamento del Palazzo di Giustizia di Foggia si farà a rassicurare addetti ai lavori e cittadini, imprimendo un'accelerazione alla questione, e il Comune di Foggia guidato dal Commissario Prefettizio Vincenzo Cardellicchio. Ora è tutto pronto, fanno sapere da Palazzo di Città. Dopo incontri, riunioni e scambio di lettere, in corso la raccolta delle prime firme per la sottoscrizione degli atti e si attende soltanto l'ufficializzazione del soggetto, che sarà incaricato di sottoscrivere l'atto da parte del Ministero della Giustizia. Si definiscono fiduciosi gli avvocati del Foro Foggiano, che da anni denunciano le criticità del Tribunale, legata alla carenza di spazi e di aule giudiziarie, dopo la soppressione del Tribunale di Lucera e delle sei sezioni distaccate e dislocate in provincia. Sì, noi speriamo che la cosa vada in porto. Ovviamente, finché non vediamo il risultato, non ci fermiamo. È una battaglia che stiamo conducendo insieme ai magistrati, al personale dipendente da molto tempo, perché il problema degli spazi è un problema serissimo, è un problema pesante, è un problema pressante. Siamo stipati come i polli da batteria, lo stiamo dicendo da molti anni. Abbiamo cercato, stiamo cercando una soluzione. In questa soluzione l'avvocatura sta facendo la sua parte, come lei saprà, l'avvocatura fa parte di diritto della Commissione Permanente, nella quale opera anche il Presidente del Tribunale, il Proguratore e il dirigente amministrativo, che nel caso di specie è il Dottor Toziani. Il problema è molto serio, soprattutto dopo l'accorpamento del Tribunale di Lucera. Lo stiamo denunciando da anni, ma lo stanno denunciando tutti. Speriamo che questa sia la volta buona. Siamo fiduciosi e siamo ottimisti. E ora l'allarme di C agricoltori Puglia per il nuovo ribasso del prezzo sul grano duro. I produttori chiuderanno e la pasta non sarà più italiana, avvertono. Sentiamo i dettagli. In caduta libera il valore del grano duro, le ultime quotazioni in borsa merci Bari, il martedì 2 maggio, hanno toccato il loro punto più basso rispetto agli ultimi 12 mesi. Il grano duro perde altri 15 euro a tonnellata, scendendo sotto i 350 euro per ciò che attiene alle tipologie fino, buono mercantile e mercantile, mentre il biologico si attesta attorno ai 360 euro a tonnellata. Da giugno 2022, quando le quotazioni massime arrivavano a 600 euro a tonnellata, il valore del grano si è quasi dimezzato. In gioco ci sono la sicurezza alimentare e il futuro della filiera italiana di grano, pasta e pane, ha evidenziato il presidente CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, Gennaro Sicolo. Per questo motivo, se davvero crediamo nel valore strategico della nostra sovranità alimentare, allora il sistema e i meccanismi di granaio Italia devono essere subito attivati, ha ribadito. A tal proposito è stata lanciata una campagna nazionale dall'Organizzazione Agricola Difesa del Grano e della Pasta Italiani, per tutelare da un lato il prezioso lavoro dei produttori cerealicoli, dall'altro il diritto dei consumatori a sapere con certezza e in completa trasparenza con quali grani vengono prodotti pasta e pane di cui si nutrono le famiglie italiane. Una campagna nazionale portata avanti anche attraverso una petizione pubblica. CIA Puglia chiede al governo italiano e alle istituzioni di mettere in campo tutte le azioni possibili per il monitoraggio, la trasparenza e la tutela della qualità e delle quantità di grano nazionale utilizzato per la pasta ed il pane consumati dagli italiani. La produzione di grano italiano dal canto suo è il primo anello di una filiera apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo come simbolo del Made in Italy, hanno rimarcato dalla filiera. Il sostegno alla gravidanza e alla maternità per le donne in difficoltà dal forum Famiglie Puglia c'è l'appello alla regione. Torna a farsi sentire la voce delle mamme e dei papà. Ha infatti qualcosa da dire il forum delle associazioni familiari di Puglia in merito alla sospensione della delibera approvata dalla Giunta regionale che aveva ratificato nei giorni scorsi i sostegni psicologici, sociali ed economici a favore delle gravide in difficoltà che desiderassero portare a termine la gravidanza rendendo così integrale l'applicazione dei punti 2.5 della legge sull'aborto del 22 maggio del 1978 numero 194. Il forum ha inviato una lettera ai componenti della Giunta regionale per illustrare il percorso che aveva portato all'approvazione del provvedimento legato alla necessità di misure non limitate solo al sostegno economico. La delibera infatti prevedeva sostegno emotivo psicologico di biblioteca solidale e anche di un contributo calibrato esattamente come altre misure analoghe in base all'ISEE. Sarebbe un grave errore non tener conto della necessità di tutelare anche le donne che non vogliono abortire hanno concluso le realtà associative. Questo provvedimento non toglie nulla alla possibilità di una donna che lo voglia di abortire non vediamo perché non debba sostenere le donne che vogliono invece portare a termine la loro gravidanza ma hanno bisogno di un aiuto. Questa è la posta in gioco per questa delibera che vedrebbe nella Puglia la seconda regione in Italia a attuare integralmente la legge 194. Stando alle statistiche le interruzioni volontarie di gravidanza al Sud nel 2020 sono state 14.907 e in Puglia 5.326 un dato pari al 6.4% superiore alla media italiana che si attesta al 5,6%. La provincia con maggior numero di aborti è Bari quasi la metà di tutto il territorio regionale. Cortometraggi, laboratori e linguaggio filmico per avvicinare i giovani alla coscienza civile e non lasciare soli gli amministratori sempre più sottotiro è l'obiettivo del progetto dal titolo Arte e Legalità presentati a Bari i lavori degli studenti. Un grande risultato che parte da un'intuizione grazie a Prefettura e a tutti i partner di utilizzare il linguaggio video come strumento per far conoscere i ragazzi ma rendendoli protagonisti del significato e del ruolo delle istituzioni a supporto della democrazia e soprattutto di come gli amministratori oggetto di atti di intimidazione sono sempre più sotto scacco e hanno bisogno della vicinanza della comunità. Racconta così il Presidente Nazionale di Avviso Pubblico il progetto che ha coinvolto le scuole pugliesi il colpo d'occhio è quello sul Salone degli Specchi della Prefettura del Capoluogo tre cicli di incontri d'intesa con Regione Teatro Pubblico Pugliese a Puglia Film Commission e poi l'associazione che riunisce gli amministratori locali sempre più sotto tiro e sui quali tenere accessi riflettori esattamente l'obiettivo dei cortometraggi presentati a Palazzo del Governo in quello che dal Dipartimento di Via Gentile definiscono welfare culturale a tutto tondo welfare culturale significa che la cultura migliora concretamente la qualità della vita delle persone dei pugliesi e delle pugliesi e questo progetto di arte e legalità parte dai fondamenti della buona vita dei pugliesi del welfare pugliese cioè il rispetto delle regole il senso di comunità il contrasto alla illegalità e questo non può che nascere dai ragazzi attraverso il linguaggio che i ragazzi utilizzano e attraverso il quale i ragazzi costruiscono comunità quindi assolutamente importante la presenza dei ragazzi e non perché sia bello dire che ci sono le nuove generazioni ma perché è fondamentale seminare è chiaro che è importantissimo secondo noi che attorno ad ogni sindaco e ad ogni amministratore locale ci sia il senso di protezione della propria comunità della propria città per far sì che vada avanti bene una sana amministrazione a Foggia inaugurata una nuova casa dello studente all'interno di un ex hotel ospiterà 65 loggi bello aumentiamo grazie allo sforzo da Dice grazie allo sforzo della regione i posti letti a disposizione dei nostri studenti spero solo che sia un primo passo a cui possono seguire a breve molti altri posti perché noi abbiamo un'offerta formativa di circa 14.000 studenti e sono non solo dalla provincia di Foggia ma anche da fuori regione quindi per noi ci servono moltissimo i posti letti e c'è moltissimo il studentato per i nostri studenti Foggia ha ufficialmente una nuova residenza universitaria si aggiunge alle due già esistenti e ad una terza in procinto di essere ultimata e sarà in grado di ospitare 65 studenti dopo l'acquisto della storica struttura ricettiva dell'ex hotel White House da parte della regione Puglia per un importo complessivo superiore ai 3 milioni di euro avvenuto nell'ambito degli avvisi previsti nel PNRR la struttura è stata inaugurata nelle scorse ore alla presenza tra gli altri delle principali istituzioni locali e regionali del settore dell'istruzione oltre 3 milioni di euro per 65 posti letto per gli studenti più che altro un valore simbolico la capitanata riparte dallo studio dei ragazzi si da tempo che la regione Puglia investe sulla Puglia regione universitaria qui a Foggia ma anche a Lecce abbiamo fatto investimenti importanti per le strutture per le residenze universitarie noi vogliamo che la Puglia venga intesa non soltanto come regione turisticamente bellissima e straordinaria ma anche come regione dove si studia dove c'è un eccellente diritto allo studio dove i ragazzi hanno tutte queste diciamo strutture e agenzie formative per raggiungere i loro successi universitari anche di lavoro perché uno studente che si integra nel tessuto cittadino rappresenta poi il volano della crescita della comunità che parte dalla cultura e può generare anche ottima occupazione oltre che legalità e vivere sociale a Bari dei fondi del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 6 nuovi asili nido la giunta del comune di Bari ha approvato 6 degli 11 progetti di asili nido fra nuove strutture ed edifici da riqualificare programmati nel piano infanzia dell'amministrazione e finanziati con i fondi del PNRR a darne notizia il sindaco Antonio De Caro sui suoi canali social entro fine giugno dovremo aggiudicare i lavori con la procedura dell'appalto integrato scrive il primo cittadino nella prima fase sono previsti i nidi le fiabe a palese del mare da realizzare in una villa confiscata la criminalità a torre a mare e del sole appoggio franco oltre due interventi nel quartiere San Paolo il primo l'asilo nido il fiore di nuova costruzione e poi la struttura per la prima infanzia la nave con la riqualificazione dell'attuale edificio a questi prosegue De Caro si aggiunge il nuovo asilo da realizzare in via Gentile che ospiterà sia i figli dei dipendenti della regione sia i figli dei residenti del quartiere Iapigia l'importo dei fondi impiegati per questi primi sei interventi ammonta circa 14 milioni di euro a breve arriveranno anche gli altri progetti con l'obiettivo di offrire circa 650 posti in più per i bambini della città a Monopoli le polemiche per la statua Curvi che ha fatto tanto discutere guardate che se ne parli bene o meno l'importante è che se ne parli diceva Oscar Wilde e la statua Curvi fresca novità in quel di Monopoli è senza dubbio riuscita nell'intento le sue immagini hanno fatto il giro del mondo dalla Francia al Giappone dall'Inghilterra all'India si è guadagnata le prime pagine dei media situata nella piazzetta dedicata a Rita Levi Montalcini fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell'area proponendo allo stesso tempo un canone di bellezza diverso dall'ordinario e con forme prosperose persino su Google Maps è stata geolocalizzata ed identificata si trova in una zona con vista mare ma adibita anche a parco giochi per bambini qualcuno ha storto il naso ed ha protestato ma la statua rimane così com'è e la novità viene accolta positivamente da turisti e passanti che pur di ammirarla sfidano il maltempo l'arte in fondo è arte è una cosa bellissima Monopoli ha bisogno perché abbiamo il mare la sirena dove fanno al mare certo è stupendo ne stanno dicendo di tutti i colori però dici che è stata fatta male non lo so sta bene sta bene proprio un'altra cosa presentato nella sala convegni dell'università di Bari il nuovo libro di Antonio Ricchio e Pierpaolo Manno si parla di emergenze energetiche questione ambientale attraverso un'analisi geoeconomica e dei rischi per la cyber security presentato nella sala convegni dell'università di Bari il nuovo libro di Antonio Ricchio e Pierpaolo Manno dal titolo le emergenze energetiche tra crisi geopolitica e questione ambientale pubblicato nella collana sull'intelligence dell'università della Calabria a seguito della crisi anche provocata dalla guerra russo-ucraina come l'approvvigionamento energetico sia un problema serissimo e la dipendenza del nostro paese da fonti energetiche estere e fossili abbia poi provocato un impatto pesante sulla nostra economia nel volume affrontiamo il tema dell'autosufficienza energetica come strategia essenziale delle politiche del nostro paese ma anche affrontiamo il tema della liberazione del nostro paese anche da un gioco energetico provocato dalle fonti fossili quindi la necessità di puntare su fonti energetiche ambientalmente compatibili Il lavoro offre alcune riflessioni in tema di policy per la sicurezza energetica e ambientale assumendo una prospettiva complessa in cui l'analisi geo-economica si collega a quella dei rischi relativi alla cyber security nella connessione delle infrastrutture critiche energetiche e alle questioni ambientali La definizione migliore di intelligence l'ha data Bill Gates parlando di altro ho una certezza semplice ma incrollabile il modo migliore per prevalere sugli altri è eccellere sul piano dell'informazione quindi nel modo con cui si analizzano si ricercano e si utilizzano le informazioni di cosa ha parlato Bill Gates ha parlato del metodo dell'intelligence che ciascuno di noi fa senza saperlo per decidere noi tutti acquisiamo le informazioni le analizziamo e le utilizziamo presentato il cartellone di eventi per l'estate barlettana nel fossato del castello Ranieri Brignano Drusilla e non solo musica spettacoli divertimento e quindi turismo con il summer festival torna l'estate barlettana espressione della tradizione popolare cittadina nel suggestivo scenario del fossato del castello Svevo si inizia l'8 giugno con alcuni degli spettacoli gratuiti previsti per un pubblico ampio i nomi clou del cartellone tra cui Nino D'Angelo Massimo Ranieri Fabi Fibra e Levante riservati ad un pubblico pagante sfileranno invece a partire dal 21 luglio e sino al 24 agosto questa manifestazione pubblica che abbiamo fatto con chi ha vinto la gara e gestirà il fossato ritorniamo a portare al castello grandi eventi di richiamo non solo per la cittadinanza ma anche per tutto il territorio che la circonda si tratta di appuntamenti che avranno un grosso impatto sull'intera filiera del settore dell'accoglienza turistica creando occasioni di sviluppo per la città ha dichiarato il sindaco Mino Cagnito alla musica dei grandi artisti e al festival internazionale del cibo di strada del Summer Festival si aggiungeranno a settembre la rievocazione della disfida di Barletta oltre ai mondiali del Costalroading e del Beach Sprint un grande appuntamento sportivo che vedrà la città proiettata a livello internazionale un'estate studiata a tavolino per abbracciare una platea territoriale vasta per gusti ed interessi adesso si aspetta solo l'arrivo delle alte temperature stasera alle 19 a Bari in programma una fiaccolata per ricordare le psichiatre uccise dai loro pazienti esprimeremo dolore per le colleghe insieme alla richiesta alla parte pubblica di maggiore attenzione alla sicurezza del nostro lavoro perché non abbiano a verificarsi casi come quelli successi alle colleghe così in una nota l'intersindacale Medici Puglia che annuncia anche la sua partecipazione a questa fiaccolata manifesteremo in silenzio senza segni distintivi uniti dal profondo dolore che ci ha colpito tutti prosegue la nota della sigla che raggruppa FP, CGL Medici CIMET SMI SNAMI E UGS Medici la fiaccolata del capoluogo pugliese partirà da piazza San Ferdinando e arriverà alla cattedrale nella città vecchia si ricorda ovviamente anche Paola Labriola uccisa a Bari anche lei da un paziente dieci anni fa adesso invece Bari che si riappropria del portico dei pellegrini che in occasione della festa di San Nicola e non solo ospiterà la mostra a Puglia monumentale che è un focus sui beni culturali del territorio barese il portico dei pellegrini a Bari situato davanti alla basilica di San Nicola è stato restituito alla cittadinanza un atto dal profondo significato simbolico e da pochi giorni dalla festa patronale e che inoltre è coinciso con la presentazione della mostra fotografica a Puglia monumentale il viaggio di Romualdo Moscioni a cura della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari situata all'interno dello stesso portico si raccoglie una ricca soluzione di uno storico reportage fotografico che parla di un sud inesplorato con beni culturali non solo del capoluogo ma anche dei territori limitrofi immagini di paesaggi e di architettura dominano la scena così come la presenza di 48 stampe originali saranno delle giornate importanti un po' otteniamo insieme le nostre tradizioni la nostra storia con le festività di San Nicola e dall'altro lato le tante persone che verranno avranno l'opportunità di guardare tante mostre in città nei musei che sono aperti e questa è una mostra particolare una mostra che riprende le fotografie di parti museali architettoniche storiche e che saranno messe in mostra e che ci legano anche a un periodo della storia in questo percorso che stiamo facendo anche nei musei cittadini di tenere insieme il passato e il presente Parliamo di digitalizzazione ricerca start up e imprese l'agenzia regionale arti il cambio a pelle è un po' anche la mission vediamo come la nuova arti si occuperà di trasferimento tecnologico si occuperà di scouting virtuale di creazione di un connubio tra le piccole e le nostre medie imprese del settore della ricerca che sia universitario e non provere a fare scouting e supporto anche ai giovani per la creazione di start up proveremo a creare un parallelo lavoro ma che avrà un filo conduttore legato da ricerca con il Nuova Puglia l'arti cambia pelle è un po' anche mission l'agenzia è quella della regione Puglia per la tecnologia e l'innovazione il cambiamento non sta soltanto nell'acronimo che guadagna anche l'obiettivo del trasferimento tecnologico al servizio dello sviluppo economico ma anche di istruzione formazione lavoro e valorizzazione della ricerca a traghettare la nuova realtà sarà Vito Albino da commissario straordinario dell'agenzia ma la governance si uniformerà presto a quelle sancite dall'ultima legge approvate dal Consiglio regionale in termini di Consiglio di Amministrazione Revisore Unico quello che la Giunta regionale in questo momento ci ha chiesto è quello di sostenere in maniera più proattiva l'azione di trasferimento della conoscenza a vantaggio del sistema della ricerca pubblica e anche a vantaggio del sistema delle imprese convinti come sono e siamo che la conoscenza è la risorsa chiave per lo sviluppo del nostro territorio e quindi in questo l'Arti e la nuova Arti in particolare perché ovviamente c'è una fase di accompagnamento di transizione e poi la nuova Arti dovrà svolgere in maniera più piena e la regione sta studiando anche l'ipotesi di creare una finanziaria per attrarre ulteriori investimenti da parte di imprese nazionali e internazionali lo ha detto il governatore Michele Emiliano a margine della conferenza stampa a Bari la Puglia ha spiegato in questo momento grazie al lavoro fatto è molto attrattiva ci sono moltissime aziende che vorrebbero investire quindi c'è bisogno di una risorsa finanziaria che è molto disponibile sul mercato mondiale e così il governatore della Puglia Michele Emiliano siamo in chiusura anche di questa pagina dedicata alle province di Bari Labatte e Foggia tra poco invece gli approfondimenti da Brindisi Taranto e Lecce potete continuare a leggere anche tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.antennasud.com sul nostro canale youtube e pagina facebook linea ai colleghi grazie come sempre per averci scelto e un buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antennasud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti